Entro il 2020 tutti i territori milano-romagnoli avranno accesso alla banda ultralarga. Un nuovo passo verso questa direzione è stato fatto nei giorni scorsi, con lo sblocco da parte della regione di 10,6 milioni di euro di fondi europei per portare la rete moderna in 96 paesi dell'Appennino, spesso più penalizzati delle città per via della posizione geografica. Di questi, 18 sono i comuni romagnoli che beneficeranno degli investimenti. Il programma di infrastrutturazione digitale interessa in particolare 11 località della provincia di Forlice e Sena, Mercato Saraceno, Bagno di Romagna, Galeata, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Predappio, Sarsina, Sogliano, Rubicone, Portico e San Benedetto, Premi il Cuore e Tredozio, a cui si aggiungono 5 comuni nella Riminese e 2 nel Ravennate. I 10,6 milioni rappresentano la prima tranche di un investimento complessivo di circa 49,6 milioni per portare internet ultraveloce nelle aree rurali non ancora raggiunte dalle reti in fibra ottica, con priorità all'Appennino. La seconda parte di finanziamenti servirà a partire dal 2017 alle operazioni per l'arrivo della banda ultralarga in case, imprese e servizi pubblici. L'intervento si inquadra nell'attuazione del piano dell'agenda digitale regionale che attraverso l'investimento di 255 milioni di euro tra risorse statali, regionali e comunitarie, porterà entro il 2020 la banda ultralarga a 30 megabit per secondo e a 100 megabit per secondo rispettivamente nel 100% e nell'85% del territorio dell'Emilia-Romagna.